Se gli immigrati arrivano e scappano da una guerra bisogna aiutarli, l'abbiamo sempre detto e siamo d'accordissimo col Santo Padre. Se la comunità che accoglie gli immigrati ha la possibilità economica, sociale di poter accogliere e permettere a queste persone di vivere come stiamo vivendo noi, sì, potrebbero diventare una risorsa. Il problema è che in questo momento in Italia abbiamo 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, abbiamo più di 100 mila persone giovani molto spesso che scappano dall'Italia per trovare un posto di lavoro e di conseguenza io penso che se non riusciamo a dare delle risposte e non riusciamo visto quello che succede agli italiani diventa un po' difficile.